Senza nessuna richiesta, in modo del tutto gratuito, ecco a voi la quinta lezione di Cagliaritano per chi non è mai stato a Cagliari, secondo il metodo Emilio e Simeone. Quando c'è da colpire qualcuno con una testata, a Cagliari si usa partire. Non si preparano bagagli, non si prenotano biglietti, non c'è moto a luogo, si parte qualcuno in modo transitivo, dandogli un bel colpo di testa sulla fronte. Hai saputo di Lello? L'hanno partito alla stazione. Partire è un po' morire, dice un proverbio cagliaritano. Nonostante sia vietato dalla normativa per la protezione degli animali, a Cagliari le persone furbe mangiano carne di volpe. Ehi, cosa hai mangiato carne di volpe? Tocca, torna indietro e mettiti in fila o schillele. Per esprimere il concetto di venire, nel normale senso di muoversi nella direzione della persona che parla o della persona con cui si parla, a Cagliari non si usa il verbo venire, ma il verbo andare. A che ora ne vieni? Vado da te alle otto. Ma se sei a piedi, perché non vai in macchina con me? Per esprimere il concetto di vieni a godere dell'abbondanza, o semplicemente per dire approfittiamone, a Cagliari si usa la locuzione verbale vai che ce n'è. Dove sei? Ma c'è molto pelo. Ehi, vai che ce n'è. Minza che oggi il Cagliari sta segnando a raffica. Minca, vai che ce n'è. A Cagliari le forme verbali sembrano non avere valore o forza espressiva se non sono rafforzate dalla particella verbiale e pronominale né in posizione enclitica. Zio, andandone ogni sera a Bagasse, invia l'Elmas. La vedo sempre, andandone e tornandone da scuola. Attento, guidandone la macchina, che tua moglie è incinta grossa. Il Cagliari era facendone schifo al calzo prima che tornava Ranieri, vero? In riferimento a chi è soggetto a passaggi a vuoto provocati da alcol o sostanze psicoattive o da entrambi, a Cagliari si usa la locuzione modale asvarioni. Ti piace l'erbetta che stai brocando con la cannetta? Minca, sono asvarioni. C'era orne la svarioni, fatta perdia, cantandone a Sanremo. Stranamente, le espressioni che normalmente servirebbero per descrivere il dolore e l'infermità a Cagliari sono usate per descrivere il riso irrefrenabile. A lacrime, sentendomi male. Misquinetta, lei camminandone attacchi tutta sciancata e io a lacrime. Era molto loffia. Non faceva, sentendomi male. Poi lui si è abbassato le mutande, a pilluna fuori e io a lacrime, sentendomi male. A Cagliari le cose non si fanno. Le azioni non si compiono, piuttosto si cravano. Si infilano a mo' di chiodo, si piantano, ma anche si mettono su. E così ovviamente il falegname crava un chiodo nel legno. La moglie crava un cacciavite nella mano del marito. Quando si pianta un casino si crava un roglio, però ci si crava in un bar e non se ne esce più. Oppure si crava una cosa che capita a fagiolo, come una pizzetta sfoglia quando ci sta troppo bene. Ma anche si crava qualcosa che si vuol per forza dire anche se non c'entra niente. Minch, ma sei sempre cravato al florio. No, dai, ero in piazzetta Gian Domenico e ho pensato di cravarci una birretta. Una birretta? Ho saputo che ci hai cravato un roglio. Ma ita cazzo, c'era un burdo cagandomi il cazzo, ce l'ho fatto cravare nel cunno. Ciò che normalmente provoca irritazione, nel senso che fa arrabbiare, a Cagliari fa inquietare. Ma senza nessun turbamento dell'animo. Non ci si arrabbia. Bensì, più romanticamente, ci si inquieta, con la pronuncia del dittongo iattizzata. Inquieta, inquietare. Perché hai dato una squartarata di cosa a tuo figlio? Mi ha fatto inquietare. Insega, ma sei inquieto. Eia, è tutta l'ora che mi dice se sono accalorato, ma io ho freddo. Alla che forse hai capito male. A Cagliari non ci si sposta, ci si tira a casino. Non si invita qualcuno ad andarsene, gli si dice di tirarsi a casino. Asco, ma ti tiri a casino. Non vedo un cazzo. E dringhidi. Sesa, canta, canta, mi sei a isca... Babà, tocca. Tirati a casino. Chi per attaccamento al denaro o senso del risparmio è restio a spendere, a Cagliari è metonimicamente detto tanalla, come immaginarie tenaglie che in modo ferreo stringono i cordoni della borsa. Ma stasera esci con quel dengoso ditore. Ma chi? Quella tanalla? Già caga. Ogni volta pago io. A Cagliari non si risponde per le rime all'interlocutore. Lo si azzera. E cosa gli hai risposto quando ti ha detto che sesi uno Goncali? L'ho azzerato, dicendogli che su Goncali era lui. Nizze che l'hai proprio azzerato.